Salgono a 36.293 i positivi ai test covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia su 779.303 tamponi effettuati, con un tasso di positività che sale al 4,7%. Secondo i dati del Ministero della Salute, sono 146 le vittime in un giorno, aumentano i ricoverati con sindomi nei reparti ordinari, che sono 8.544, mentre i pazienti in terapia intensiva nelle ultime 24 ore sono 1.010.